Musica Con Tursi Telme ha accolto il ricorso della procura di Salerno ad uccidere un operaio indiano il connazionale convivente. A Gropoli si cambia ancora e il Consiglio di Stato sospende l'esecutività della sentenza del TAR. Il 14 novembre la Camera di Consiglio stoppa al commissario. Polla saranno realizzati 12 parcheggi rosa, c'è il regolamento. 4 novembre il Vallo di Diano celebra la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Salernitana Napoli massima attenzione per la gestione dell'ordine pubblico. Ben trovati con il nostro appuntamento con l'informazione di Uno News. In apertura la cronaca, il Tribunale del Riesame accoglie il ricorso presentato dalla procura di Salerno in merito all'autore dell'efferrato omicidio commesso ai danni di un uomo di nazionalità indiana. Sembra confermata l'ipotesi della procura secondo cui a commettere l'omicidio è stato il connazionale della vittima con cui condivideva un prefabbricato. Vediamo. Arrestato l'uomo ritenuto responsabile del trugge omicidio di un uomo di nazionalità indiana i cui resti sono stati rinvenuti nel febbraio del 2022 e solo dopo un anno è stato possibile risalire all'identità del cadavere. Il Tribunale del Riesame di Salerno ha accolto il ricorso presentato dalla procura di Salerno in riferimento alla decisione del GIP che invece aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di nazionalità indiana che secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe responsabile dell'omicidio del connazionale i cui resti umani sono stati rinvenuti l'8 febbraio del 2022 in località Padula in una zona rurale del comune di Palomonte. Un efferato omicidio ai danni dell'uomo che prima di essere ucciso pare sia stato brutalmente picchiato come emerso dagli esami sui resti dell'uomo. Inoltre l'assassino si sarebbe anche accanito sul corpo del connazionale che sarebbe poi stato sventrato e decapitato. Difficile risalire all'identità dell'uomo. Solo un anno dopo, attraverso l'esame di traccia di DNA, è stato possibile accertare che i resti rinvenuti nella zona rurale di Palomonte appartenevano a Singh Gurinder di nazionalità indiana arrivato in Italia nel 2011 e trasferitosi in Campania nell'agosto del 2021 per lavorare presso un'azienda bufalina. A commettere il brutale omicidio, secondo l'ipotesi accusatoria a cui si è giunti dopo una serie di accertamenti effettuati dalla polizia scientifica all'interno della vettura dell'indagato e all'interno del prefabbricato che la persona arrestata divideva con la vittima, è stato il connazionale coinquilino che nonostante gli elementi raccolti e le tracce ematiche all'interno della vettura dell'arrestato compatibili con il profilo genetico della vittima, non erano state ritenute sufficienti dal GIP per condannare l'indagato, anche in considerazione di alcune testimonianze che avevano riferito di aver visto la vittima nel dicembre del 2022, quindi nel periodo in cui l'indagato era partito per il paese d'origine. Il Tribunale del Riesame ha però dato una grande rilevanza ad un ulteriore elemento emerso, ossia l'improvvisa partenza senza bagaglio dell'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio con un biglietto acquistato peraltro poche ore prima della partenza. Il Tribunale del Riesame ha dunque accolto il ricorso della Procura di Salerno per la richiesta di arresto dell'indagato che al momento resta comunque sospesa vista la possibilità di impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. Continuiamo con le notizie di cronaca. Salerno e i carabinieri della stazione di Mercatello hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare del divieto di avvicinamento ai prossimi congiunti emessa su richiesta della Procura dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di un 58enne per atti persecutori verso i familiari a seguito delle diverse segnalazioni da parte della madre, del fratello e della nipote che le protratte minacce, percosse e lesioni subite per mano dell'indagato. Ancora cronaca, ci spostiamo a Positano dove i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente a seguito di perquisizione personale e domiciliare l'arrestato è stato trovato in possesso di cocaina per un peso di 15,5 grammi e di 255 euro in contanti inoltre sono state anche trovate 20 fiale di steroidi anabolizzanti e 20 fiale di testosterone, un bilancino di precisione e un tirapugni con lama incorporata. Proseguiamo ancora con le notizie di cronaca i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Salerno nella serata del 31 ottobre hanno arrestato due uomini in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente uno dei due uomini è stato arrestato anche per resistenza pubblico ufficiale quest'ultimo è stato trovato in possesso di eroine e cocaina per un peso complessivo di 6 grammi e di crack ed hashish per un peso totale di 9 grammi nonché un bilancino di precisione materiale per il confezionamento dello stupefacente e 545 euro in contanti l'altro uomo arrestato è stato invece trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina materiale per il confezionamento dello stupefacente e 1305 euro in contanti Cambiamo ora argomento, passiamo alla politica andiamo ad Agropoli ieri doveva essere il giorno dell'insediamento del commissario prefettizio Fulvia Zinno ad Agropoli ma la decisione del Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar stabilendo quindi la continuità amministrativa in attesa della decisione della Camera di Consiglio fissata per il 14 novembre vediamo i dettagli Ad Agropoli rimane il caos e l'incertezza in merito alle elezioni amministrative del giugno 2022 dopo la sentenza del Tar Salerno che aveva disposto all'annullamento delle elezioni in quattro sezioni e la riapertura per le stesse sezioni delle urne portando dunque alla sospensione dell'incarico da sindaco di Roberto Mutalipassi arriva ora un nuovo controordine dal Consiglio di Stato che nella giornata di ieri ha accolto il ricorso presentato dal sindaco ed ha disposto la sospensione della sentenza del Tar almeno fino al 14 novembre giorno in cui è prevista la Camera di Consiglio per la discussione nel merito Resta dunque ancora tutto da decidere sull'esito delle elezioni 2022 dopo il ricorso presentato dal consigliere comunale Raffaele Pesce a seguito incongruenze riscontrate anche dal presidente della commissione elettorale sia sul numero di schede vidimate che sul numero di schede votate Inoltre sulla sezione 21 dai verbali emergono delle incongruenze sui numeri di voto assegnati a tutte le liste differenze di voti in particolare per i candidati Pesce Mutalipassi seppur non tali da alterare l'esito del voto In particolare nella sentenza del Tar è stato evidenziato come al candidato Pesce non sono stati assegnati 47 voti dunque i voti validi sarebbero 104 rispetto ai 57 indicati Per Mutalipassi invece sarebbero stati assegnati più voti rispetto agli effettivi dunque sarebbero 521 i voti validi e non 563 come invece assegnati quindi 42 voti in più rispetto a quegli effettivi Differenze di voti sono state riscontrate anche per le liste degli altri candidati ossia la Porta a cui sarebbero stati assegnati 6 voti in più e Serra a cui invece sarebbero stati assegnati 3 voti in meno Questo per quanto riguarda una sola delle quattro sezioni che il Tar ha deciso di rimandare al voto Una decisione che doveva comportare anche l'arrivo di un commissario prefettizio ad Agropoli che ieri, come stabilito, si era presentato presso gli uffici comunali per l'insediamento una cerimonia che però è stata interrotta dall'annuncio dell'accoglimento da parte del Consiglio di Stato del ricorso presentato da Mutalipassi Considerato, scrivono i giudici della seconda sezione del Consiglio di Stato che ricorrono ai presupposti dell'estrema gravità ed urgenza in relazione ai presupposti e medio tempo di irreversibili effetti solutori che la gravata sentenza produrrebbe sugli organi democraticamente eletti di Guisa che, in accoglimento alla richiesta di misure cautelari monocratiche appare opportuno che alla deliberazione dell'istanza cautelare da parte del Consiglio possa pervenirsi Reabuc Integra per questioni non ancora compromessa accoglie e sospende l'esecutività della impugnata sentenza fino alla prossima udienza camerale e fissa, conclude per la discussione, la Camera di Consiglio al 14 novembre 2023 A Polla saranno realizzati parcheggi rosa ovvero spazi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini piccoli Il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento del Ministero dei Trasporti e di recente è stato anche approvato il regolamento per la modalità di rilascio dei cosiddetti permessi rosa A Polla arrivano i parcheggi rosa ovvero spazi riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini piccoli per una mobilità sempre più inclusiva e adatta alle esigenze dei cittadini Il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento del Ministero dei Trasporti e avendo ottenuto di recente il trasferimento delle somme procede ora alla realizzazione degli stalli rosa previsti con la delibera di giunta del 26 luglio 2022 Ne saranno realizzati 5 in via dell'Annunziata presso il Nido per l'Infanzia Comunale 4 presso l'area verde del Parco della Rimembranza 2 presso Piazza Cristo Re e 1 presso il pronto soccorso dell'ospedale Era necessario anche regolamentare la modalità di rilascio dei cosiddetti permessi rosa e di fruizione degli stalli su proposta degli assessori Federica Mignoli e Vincenzo Giuliano lo scorso 31 ottobre è stato approvato il regolamento 7 articoli in cui sono spiegate le finalità dell'iniziativa i soggetti legittimati ad ottenere il permesso ovvero donne in stato di gravidanza e genitori con bambini di età non superiore ai 2 anni e ogni nucleo familiare ha diritto ad un solo permesso le modalità di richiesta che va presentata al protocollo del Comune attraverso una specifica modulistica già predisposta la validità del permesso, quello rilasciato alle donne in gravidanza ha validità fino al trentesimo giorno successivo alla data presunta del parto mentre quello rilasciato ai genitori del bambino ha validità fino al giorno del compimento del suo secondo anno di età per l'utilizzo del permesso gli stalli rosa possono essere utilizzati solamente per il parcheggio di veicoli che espongono il permesso rosa che può essere utilizzato dalle donne in gravidanza che ne sono intestatarie oppure da uno dei genitori del bambino di età inferiore ai 2 anni ogni qualvolta venga effettivamente trasportato il bambino sono considerati validi anche i permessi rosa rilasciati da altri comuni o enti sovraccomunali cui è delegata la funzione Torniamo a Salerno, parliamo di allarme sicurezza il senesimo furto in città Salerno con i rapinatori che entrano negli esercizi commerciali rompendo vetrine e prendendo soldi dalla cassa attività investigativa in corso intanto il questore invita i cittadini a continuare a segnalare anche in forma anonima la presenza di persone sospette Anche stanotte si registra l'ennesimo furto in città rapinatori solitari entrano, rompono le vetrate e prendono i soldi dalla cassa Quello che dice effettivamente si è verificato con l'attività investigativa e con i servizi di prevenzione abbiamo buone possibilità di individuare gli autori che sono degli sciacalli che comunque vanno a rubare notte e tempo l'invito che faccio ai cittadini, già lo fanno, Salerno reagisce molto bene è quella di segnalarci anche in forma anonima la presenza di persone sospette nessuno vi chiederà il nome e cognome Furti che avvengono a mezzanotte piuttosto che a luna anche in orari tra l'altro dove c'è anche un buon flusso di persone ancora in strada da automobilisti in transito E' proprio per questo che ci sono gli automobilisti in transito io mi aspetto una collaborazione ulteriore da parte dei cittadini perché Polizia, Carabinieri e Guardi di Finanza presidono il territorio il controllo del territorio è effettuato in maniera esemplare è solamente che magari la volante viene vista, il radiomobile viene vista appena passa fanno il furto quindi invito ancora di più l'attenzione dei cittadini a darci la massima collaborazione Si pensa alla sicurezza, si guarda ora il derby con il Napoli come si sta preparando la città e soprattutto quali sono le attese? Le attese sono innanzitutto che venga fuori una bellissima partita un incontro che è atteso da tempo io dico sempre siamo le uniche due squadre meridionali e militari in Serie A quindi diamo al massimo la nostra attenzione alla socialità e alla sportività dell'evento e ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità tra poco Bentornati con la seconda parte del nostro Tg il Vallo di Diano celebra il giorno dell'unità nazionale delle forze armate ecco alcune delle cerimonie previste dalle varie amministrazioni comunali per la giornata di domani Anche nel Vallo di Diano le amministrazioni comunali si stanno preparando a celebrare il 4 novembre la giornata dell'unità nazionale delle forze armate con cerimonie volte a ricordare tutti coloro che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di patria e di attaccamento al dovere tra le manifestazioni previste ad Atena Lucana la cerimonia di commemorazione inizierà alle 11 con la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Maggiore ufficiata dal parroco Don Michele Casale e a seguire si terrà il corteo con la deposizione della corona di fiori al monumento ai caduti a Polla invece la Santa Messa sarà celebrata presso il Parco della Rimembranza dalle 10 e 30 per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della patria per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per senso di responsabilità e per attaccamento al dovere valori mutati nel tempo per i militari di ieri e di oggi a seguire sarà deposta una corona d'oro presso il monumento ai caduti pollesi in piazza Ponte cerimonia pubblica, civile e religiosa anche a Sala Consilina in piazza Umberto I dalle 11 dopo il picchetto d'onore e la deposizione della corona d'alloro al monumento dei caduti nella chiesa della Santissima Annunziata si terrà la Santa Messa con i rappresentanti dell'amministrazione comunale, delle forze dell'ordine e delle delegazioni delle scuole cittadine a Tegiano è previsto il raduno alle 10 davanti al municipio con il corteo cittadino al seguito del gonfalone della città e dopo si terranno la Santa Messa nella chiesa di San Martino e la deposizione della corona d'alloro al monumento dei caduti a Sanza l'amministrazione comunale ha previsto la cerimonia in piazza 24 maggio dalle 9.30 con deposizione della corona d'alloro e un momento di riflessione collettiva per l'occasione agli onori militari seguirà una benedizione ufficiata dal parroco di Sanza Don Giuseppe Spinelli Al via la nuova campagna di comunicazione di Cassa Centrale Banca a cui aderisce la Banca Montepruno il playoff della campagna è fondato sul bene comune e valorizza un concetto da sempre parte integrante del DNA dell'Istituto di Credito Vediamo Parte la nuova campagna di comunicazione del gruppo Cassa Centrale a cui aderisce la Banca Montepruno che nel rendere nota la notizia si dice particolarmente felice di poter condividere il nuovo spot di Cassa Centrale che per le prossime settimane vedrà una pianificazione pubblicitaria sui più importanti media nazionali Emerge con orgoglio, affermano dalla banca in una nota la nostra caratteristica più importante essere banche di credito cooperativo integrate nella comunità tale iniziativa oltre a rafforzare la awareness, l'identità e la riconoscibilità del nostro gruppo ci permette di consolidare i valori che da sempre ci contraddistinguono e di affermare per primi la centralità del bene comune elemento rilevante dello statuto di tutte le banche del gruppo poi un riferimento al playoff della nuova campagna di comunicazione che spiegano dalla Banca Montepruno è fondato sul bene comune è celebra e valorizza un concetto che è da sempre parte integrante del DNA dell'Istituto di Credito Principio si legge ancora nella nota che è sancito nella mission di gruppo e delle banche e trova un apprezzamento speciale tra i nostri soci poiché riflette l'essenza stessa di una comunità coesa si integra inoltre in modo sinergico con le tematiche ESG e l'Agenda 2030 mettendo in luce l'importanza dei nostri valori in ottica di sostenibilità e di promuovere un futuro migliore per la collettività tutta infine la Banca Montepruno evidenzia con orgoglio e soddisfazione che l'Istituto di Credito con il responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea ha contribuito alla realizzazione di questo spot partecipando insieme ad altri nove colleghi di altrettante BCC del gruppo bancario ad un ristretto gruppo di lavoro che unitamente al team marketing della capogruppo negli ultimi mesi si è dedicato a questa campagna di comunicazione Il calcio la Serie A domani la gara tra Salernitana e Napoli massima attenzione per la gestione dell'ordine pubblico in occasione del derby campano in programma alle ore 15 alla Rechi gara che dovrà fare i conti anche con la contemporanea apertura nella stessa area della settima edizione di Salerno Boccio il prefetto di Salerno con il questore hanno predisposto il dispositivo di sicurezza non è però ancora chiaro quanti tifosi azzurri arriveranno a Salerno vediamo C'è massima attenzione per la gestione dell'ordine della sicurezza pubblica in occasione della gara tra Salernitana e Napoli in programma sabato alle 15 una gara che dovrà fare i conti anche con un elemento in più nella stessa area è prevista la contemporanea apertura della settima edizione di Salerno Boccio il salone nautico ospitato all'interno del porto Marina da Rechi situato proprio di fronte all'ingresso principale dello stadio i visitatori usufruiranno della stessa area di parcheggio e della stessa strada a confermare attenzione anche ne è stato il prefetto di Salerno Francesco Esposito che con il questore Giancarlo Conticchio ha predisposto un articolato e puntuale dispositivo di sicurezza ancora non è chiaro quanti tifosi azzurri arriveranno a Salerno dopo la decisione della prefettura di aprire il settore ospiti inizialmente destinato solo ai tifosi del Napoli residenti fuori regione anche ai residenti di Salerno e provincia che ha permesso dunque a un numero più ampio di supporter azzurri di avere accesso al settore durante il derby di sabato la prevendita terminerà alle 19 di domani ed il prefetto Esposito ha rivolto un appello ai tifosi di entrambe le squadre un invito affinché possa essere una bella giornata di sport in un clima sereno ci si appresta con la massima attenzione che è stata data alla sicurezza attraverso più riunioni di comitato e anche tavoli tecnici in questura predisposizioni di servizi che chiaramente sono calibrati sulla delicatezza dell'evento e sul numero degli spettatori e con una serie di dispositivi che sono stati adottati nei giorni scorsi su indicazioni del comitato analisi sugli eventi sportivi ma anche integrandoli per evitare che ci siano commistioni tra tifosi intanto comunque un appello a tutte e due le tifoserie perché possa essere una bella giornata di sport vissuta in un clima di serenità e che vinca il migliore un rischio immanente direi però è chiaro che noi ci siamo attrezzati ci stiamo attrezzando per affrontare qualsiasi situazione di ordine e sicurezza pubblica ma confidiamo nel senso diciamo di sportività della tifoseria locale e anche di coloro che vorranno tifare Napoli Ed era questa l'ultima notizia di oggi io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti